sull'epatite C, che essendo un seminario di presentazione ho scelto anche un argomento che in qualche modo ripercorresse quello che è il mio itinerario assistenziale scientifico, che appunto è passato anche per l'Università di Brescia, dove sono stato cinque anni come associato. Dunque, l'eliminazione di un virus è sicuramente un obiettivo molto ambizioso, vedremo che quando si parla di eliminazione non parliamo di qualcosa di simile a quello che è successo per il vaiolo, ma qualcosa di molto diverso, seppure un obiettivo che probabilmente è raggiungibile. Queste sono le mie disclosures. Vedremo un po' la storia dell'epatite C, come si è passati dall'identificazione del virus assolutamente atipica e innovativa a una risposta virologica, un tasso di guarigione con le terapie del 100%. E vedremo che come questa, che è la fine di un percorso di ricerca sia clinica che di base, è in realtà un nuovo inizio. Un nuovo inizio perché, come per l'epatite C e come per l'HIV, in mancanza di un vaccino, in mancanza di una protezione anticorpale, il trattamento della malattia, il decadimento e la riduzione della viremia di popolazione può diventare una vera e propria eliminazione dell'HCV. Per questo obiettivo di eliminazione ci sono una serie di capitoli, quello che è la coscienza, la presa di coscienza da parte della popolazione dell'importanza della malattia, la possibilità di attivare una serie di piccoli processi di microeliminazione che sorgono come centofiori nell'ambito di questo processo e come entrare nella popolazione generale, attraverso uno screening universale o mirato e attraverso uno screening opportunistico. Questo screening è in Italia stato in qualche modo supportato da un fondo nazionale che dovrebbe essere speso proprio in questi anni e purtroppo però il Covid-19 in qualche modo ha rappresentato un ostacolo, una sorta di elefante nella cristalleria che in qualche modo interferisce con questo nostro obiettivo ma può rappresentare anche in qualche modo un'opportunità. La storia dell'epatite C comincia nel 1975 con un lavoro nel quale in seguito alla identificazione dei marcatori dell'epatite A e B furono in qualche modo espunti dalla caratteristiche cliniche dalla clinica dei pazienti con epatite acuta una serie di casi di epatite che non erano né epatite A né epatite B per lo più a trasmissione trasfusionale, infatti erano agglutinati nell'ambito dei riceventi di trasfusioni di sangue e questo lavoro seminale da parte di Robert Purcell e Harvey Alter e Paul Holland mise a punto e identificò per primo questa malattia. Era una malattia molto importante sulla quale si scatenò un'attività di ricerca che aveva ovviamente anche delle importantissime ricadute commerciali perché l'identificazione di un test che impedisse la trasmissione del virus con la trasfusione aveva delle ricadute economiche di grande livello per cui da 1975 in poi tutti quanti cercarono, moltissimi ricercatori, cercarono di identificare questo virus con le classiche tecniche di virologia, di coltura, di isolamento, centrifugazione, microscopia elettronica, ma senza grande successo. Il successo fu arrise invece a Michael Houghton, un medico che lavorava per la Abbott Diagnostici che fondò una sua compagnia nella quale scelse una via del tutto innovativa. Sostanzialmente dal fegato di uno scimpanzé infettato con il virus dell'epatite C isolò l'RNA che non era appartenente al genoma dell'animale e in qualche modo clonò questo trasformando in DNA, lo clonò, creò delle proteine e vide che alcuna di queste proteine chiamata C100 interagiva con anticorpi presenti nel sangue di soggetti con epatite post-trasfusionale e pubblicò anche la sequenza dell'RNA di questa sequenza del genoma di HCV che codificava per questo antigene, che è un antigene non strutturale del virus stesso. E allora, devo dire, facendo anche un pochino di presentazione di autobiografia nell'ambito di quello che è stato il mio lavoro, lavoravo a Brescia e avevamo pubblicata solo la sequenza del C100 e usando i sieri dei donatori che avevano trasmesso l'epatite C l'epatite non hanno un B, non riuscivamo a identificare perché la quantità di virus di RNA era probabilmente molto bassa. Allora ebbe in qualche modo l'idea di usare invece il sangue dei soggetti con epatite acuta da virus C e in effetti usando il plasma di questi soggetti identificammo l'RNA e fu in grado di determinare anche tutta la sequenza del virus che per ora, fino a quel momento, era una sequenza che era coperta da, tra virgolette, segreto industriale. L'analisi e i primi anni della vita di questo virus sono una curiosa vita nella quale tutti i ricercatori si focalizzavano su quella che era la sequenza dell'RNA, sulla biologia molecolare del virus. Non si era ancora in grado di avere un sistema culturale che era fondamentale, ma attraverso la sequenza si capì che il virus aveva diversi genotipi che avevano storie cliniche e localizzazioni geografiche molto diverse e in qualche modo descrivemmo attraverso la biologia molecolare qual era il pattern e la mappa della distribuzione e della prevalenza dei vari genotipi nell'Italia del Nord e in particolare a Brescia. Inoltre usammo questo RNA come un vero e proprio test diagnostico per identificare precocemente i soggetti con epatite acuta C nella fase in cui non avevano ancora presentato gli anticorpi. La biologia molecolare oggi ha permesso qualcosa che è veramente importante per quello che sarà il processo di eliminazione. Abbiamo oggi a disposizione di test al point of care che possono ricercare l'RNA con un test diagnostico tipo GeneXpert che ci può dare la presenza o assenza dell'RNA virale su sangue nel giro di un'ora. E questo ci facilita molto se pensate che l'itinerario di un paziente è quello che fa prima il test anticorpale poi successivamente fare un prelievo per cercare se c'è l'HCV-RNA e identificare successivamente il paziente con RNA positivo e inviarlo a un medico che fa la diagnosi con 5 step diversi oggi siamo in grado di riuscire a identificare il paziente in un singolo test. Abbiamo un test anticorpale rapido che può essere fatto addirittura sulla saliva e un test HCV-RNA il paziente che ha positivi anticorpi su saliva che ci consente praticamente in un'ora e mezza di identificare un paziente cliremico e eventualmente iniziare immediatamente la terapia in alcuni casi abbastanza rilevanti per quanto riguarda la trasmissione epidemiologica. E questo tipo di approccio è un approccio che le guida dell'EAS che ho avuto anche la fortuna e l'onore di compilare insieme a un gruppo di ricercatori e di clinici europei raccomandano questo tipo di approccio nello screening dei pazienti con epatite C che facilita molto la gestione soprattutto in ambiti come per esempio i CERD o come per esempio le carceri nella quale l'aderenza del paziente a 5 visite successive è ovviamente un problema importante. Ma l'evoluzione della ricerca è stata possibile solo quando si è avuto a disposizione un sistema di culture cellulari sistema che è stato in qualche modo implementato attraverso la introduzione di un isolato da un paziente una rissima forma di epatite fulminante un paziente giapponese su cellule epatociti umani e produrre dei virioni dei virioni infettanti che infettavano cellule naive che infettavano anche lo scimpanzé finalmente si aveva a disposizione un sistema culturale e grazie a questo e grazie alla biologia molecolare si è stato in grado di identificare tutti i vari step della replicazione del virus dell'epatite C e in qualche modo produrre tutta una serie di molecole che potevano andare a interferire nei vari step di replicazione quindi una serie di antivirali tuttavia nell'uso clinico noi abbiamo esattamente come target due molecole la proteasi la proteasi che è una molecola come voi sicuramente sapete che agisce in una fase molto iniziale della replicazione virale ritagliando come una forbice di un sarto dalla poliproteina virale le varie proteine funzionali che sono necessarie per la replicazione del virus stesso e la produzione delle proteine funzionali e strutturali e un'altra proteina funzionale l'NS5A che è una proteina con una specie di polipo che con la testa e con i tentacoli tiene insieme la polimerasi i due frammenti di RNA e con la testa interagisce con l'assemblaggio del virus che avviene a livello delle membrane intracellulari inoltre altro bersaglio è la polimerasi virale bersaglio molto famoso e importante abbiamo una serie di farmaci che sono stati disegnati per l'epatite C che oggi si stanno affacciando alla terapia del covid come il monlupiravir e un altro farmaco Roche che erano stati disegnati per l'epatite C ma che agiscono anche sull'RNA polimerasi del SARS-CoV-2 e quindi questa ricerca questo itinerario è stato coronato nel 2020 dal premio Nobel per la fisiologia e la medicina che è stato assegnato a Harvey Alter a Michael Houghton e Charles Rice proprio per la scoperta dell'epatite C chiaramente trattare una malattia virale come quella del virus C è difficile perché il virus ha una sua capacità di elusione infatti il virus ha un enorme tasso di replicazione ogni giorno vengono prodotti 10 alla 12esima vidioni ebbene non essendoci una capacità una capacità da parte dell'enzima di correggere gli errori di bozza una capacità proofreading dell'RNA polimerasi ebbene gli errori sono estremamente frequenti e quindi è estremamente probabile che possano insorgere delle sostituzioni associate a resistenza a qualche farmaco nell'ambito dell'RNA del virus per fortuna non tutte le varianti sopravvivono perché alcune non possono replicare o hanno un deficit funzionale non sono competenti per la replicazione oppure alcune possono essere più facilmente eliminati dal sistema immune ma l'enorme produzione di varianti virali rappresenta un importante ostacolo all'uso della terapia antivirale infatti quello che succedeva quando si cominciano le prime monoterapie con i bitori a proteasi è che nel giro di pochi giorni la quantità di RNA aveva un decremento importante in circolo ma dopo pochi giorni l'RNA ritornava ai livelli precedenti e questo era dovuto al fatto che si selezionava in virtù della capacità del virus di produrre rapidissimamente delle varianti resistenti tuttavia si cercò di produrre dei farmaci di maggiore potenza antivirale e un miglior profilo di resistenza profilo di resistenza che era dovuto alla possibilità di indurre maggiori concentrazioni intracellulari dei farmaci avere dei farmaci che avessero una certa attività anche sui virus mutati avessero la necessità di indurre di indurre diverse mutazioni per perdere l'efficacia e ridurre la sensibilità del virus al farmaco e virus che avevano una fitness molto scarsa però anche usando in monoterapia farmaci così potenti con un ottimo profilo di resistenza in realtà una volta sospesi i farmaci la quantità di virus in circolo continuava a risalire altro problema che avevamo davanti è che il virus aveva questa la riabilità erano presenti dei genotipi diversi ebbene andando a vedere quelli che erano i bersagli dei farmaci antivirali c'è solo il 47% degli amminoacidi al protease conservato in tutti i genotipi il 46% della regione della proteina NS5A e il 55% della polimerasi quindi il problema è che si creavano dei farmaci che erano attivi solamente su alcuni dei genotipi e i primi farmaci prodotti furono appunto inibitori della proteasi che farmaci che con i nomi complicatissimi finivano in predire inibitori NS5A farmaci che finivano in asvir e va ricordato il ruolo dello scienziato della Bristol Mingao che sintetizzò i primi inibitori di NS5A in particolar modo il daklatasvir e poi inibitori della polimerasi alcuni di questi inibitori della polimerasi erano inibitori diciamo allosterici che non agivano sul sito e altri invece erano terminatori di catena come il sofosbuvir sintetizzato da un chimico di origine italiana figlio di un portiere d'albergo del New Jersey Michael J. Sophia che ha ricevuto diversi premi insieme a Mingao per la sintesi di questi farmaci ebbene questi farmaci dai nomi che vedete avevano una potenza antivirale in molti casi non particolarmente rilevante se non per inibitori in S5A e il sofosbuvir avevano un profilo di resistenza non ottimale e avevano un'efficacia solo su alcuni genotipi con l'eccezione del daklatasvir per cui le terapie erano molto complicate bisognava scegliere sulla base del genotipo terapie di durata diversa terapie con combinazione di farmaci diversi quindi la strategia era di combinare diversi farmaci con le genotipi specifiche per raggiungere dei potenti effetti antivirali che potessero vincere la barriera di resistenza e avere un ampio spettro genotipico questa è un'epoca nella quale si cominciò a trattare l'epatite C con un grande successo ma si confezionano dei trattamenti che potevano essere gestiti solamente da specialisti e ricordo qui a Niguarda abbiamo partecipato a questi trial che erano veramente entusiasmanti e importanti ma che selezionavano i pazienti con dei criteri di inclusione veramente lunghi che quindi avevano prodotto delle terapie che necessitavano di un tailoring estremamente accurato che potevano essere a gestione solamente di specialisti o se non di addirittura di ultraspecialisti per questo fu creata una seconda generazione di farmaci con inibitori proteasi che erano pangenotipici potenti con barriera di resistenza e anche inibitori S5A che erano potenti con barriera di resistenza e un profilo di resistenza ottimale la disponibilità di questi farmaci di seconda generazione ha cambiato il profilo del trattamento infatti queste combinazioni erano a dose fissa tutte insieme in una singola pillola somministrati per periodi molto poco variabili o di 8 o di 12 settimane e che avevano un profilo di resistenza veramente ottimale inoltre mentre i farmaci di prima generazione soprattutto inibitori proteasi avevano una serie di interazioni farmacologici che i farmaci di seconda generazione hanno un ridotto numero di interazioni farmacologiche e quindi sono di gestione sicuramente molto più semplice e questi sono i lavori a cui abbiamo partecipato sulle sperimentazioni su questi farmaci soprattutto è stato importante dimostrare che una combinazione poteva addirittura eliminare il virus in 8 settimane e vedete in questa tabella una sintesi di questo itinerario terapeutico le prime combinazioni avevano i tassi risposta veramente alti ma come vedete non erano assolutamente vicini al 100% che era il nostro desiderio e bene ci si è avvicinati mano a mano al 100% prima con una combinazione pangenotipica che era a disposizione con alcune combinazioni che funzionavano solo su alcuni genotipi poi finalmente con delle combinazioni in singola pillola pangenotipiche che ci permettevano di ottenere percentuali di guarigione nei trial tra il 95 e il 100% con due dati di 8 settimane o di 12 settimane e questi dati dai trial furono immediatamente riprodotti anche nella realtà clinica non è una cosa che accade spesso vedete questi sono percentuali di risposta in pazienti in terapia sostitutiva con oppiacei quindi con storia di dipendenza da oppiacei pazienti in emodialisi quindi anche in pazienti molto difficili si replicavano se non addirittura si miglioravano le percentuali di guarigione osservate nei trial e si osservavano anche con terapie di 8 o di 12 settimane semplicemente 8 settimane di una combinazione di farmarie che ci consentiva di avere percentuali di guarigione molto vicini al 100% stessa cosa per l'altra combinazione somministrata per 12 settimane in singola pillola vedete numeri veramente alti con percentuali di guarigione che si avvicinano al 100% veramente devo dire in terapia antinfettiva pochissimi farmaci hanno una efficacia di questo tipo e per questo la linea guida dell'EAS abbiamo introdotto il concetto di una terapia molto semplificata uguale per tutti accanto alla diagnosi estremamente semplificata al point of care una terapia che venia data a tutti i pazienti con 12 settimane di una singola pillola oppure 8 settimane che sono somministrate solo nei pazienti con cirrosi compensata che non hanno mai fatto terapia in precedenza e quindi sostanzialmente è possibile fare la diagnosi in una singola seduta e dare il trattamento anche senza conoscere il genotipo solamente sapendo se il paziente ha o non ha una cirrosi o ha fatto in precedenza una terapia con altri farmaci inoltre abbiamo che quella piccola percentuale del 2 del 5% che non guarisce un primo ciclo di terapia se viene cimentata con una combinazione a tre farmaci sempre in singola pillola per 12 settimane presenta percentuali di guarigioni che anche qui si chiurano il 100% quindi sostanzialmente noi abbiamo avendo una risposta alla prima linea di terapia del 96% in questo 4% di pazienti che rimangono il trattamento di seconda linea ci permette risposta del 97% quindi di oggi come oggi su mille pazienti elegibili noi possiamo ottenere una guarigione in 999 col potenziale di un 99.9% una terapia che porti ad essere anche in qualche modo preventiva era finalmente ottenibile chiaramente questa fu la fine della ricerca sull'epatite C fine della ricerca avendo trovato terapie così rilevanti per la loro efficacia ben tollerate di breve durata che sono potenzialmente somministrabili e prescrivibili da qualsiasi medico se non addirittura in alcuni casi da case manager e infermieri nelle zone in cui i medici sono poco reperibili penso ad esempio all'esperienza che è stata fatta in Australia tutta questa avventura in qualche modo era finita ma questo è stato l'inizio della fine ma probabilmente no perché per definire una cosa come la fine significa porre un nuovo inizio e la fine è il punto di partenza da cui dobbiamo avviarci e infatti il trattamento come prevenzione ci permette di poter progettare nell'ambito degli obiettivi di salute globale dell'organizzazione mondiale della sanità una eliminazione dell'HCV che consiste in una riduzione del 90% delle nuove infezioni dell'80% la guarigione dell'80% delle persone leggibili del trattamento e una riduzione della mortalità per epatite E, B e C del 65% pensate che l'epatite è una delle cause principali di morte nel mondo prima dell'avvento di questi nuovi famici Chiaramente c'è una strategia globale per eliminare l'HCV con una serie di documenti dell'organizzazione mondiale della sanità e c'è il coinvolgimento di una serie di stakeholder i cercatori i professionisti della salute ma anche quelli che fanno la politica l'organizzazione dei pazienti i governi e dobbiamo implementare questa strategia attraverso il coinvolgimento di tutte queste persone abbiamo ovviamente strumenti terapeutici per poterlo fare e in Italia l'Italia è uno dei paesi si misura diciamo di anno in anno chi è sulla via di raggiungere questo obiettivo e l'Italia come vedete è uno dei paesi che sono sulla via di raggiungere questo obiettivo insieme all'Islanda la Spagna la Francia la Vizia l'Australia il Giappone l'Inghilterra e la Corea del Sud in Italia si pensa di poter arrivare all'eliminazione delle epatite a raggiungere questi obiettivi sicuramente si pensava prima del 2030 cosa serve quindi per seguire e mantenersi su questa strada identificare e portare alla coscienza di tutti la possibilità di eliminare una delle più importanti cause di morte nel nostro paese e in tutto il mondo perché sappiamo che oggi con lo screening e con la terapia siamo in grado di bloccare non solo l'evoluzione della malattia ma anche la trasmissione della malattia e quindi occorrono delle campagne di informazione che raggiungano tutte le popolazioni e soprattutto le popolazioni ad alta prevalenza per esempio nei pazienti con uso di droga per via endovenosa e nei carceri quindi accanto a questo abbiamo una serie di setting in cui ci sono delle situazioni di alta prevalenza della malattia e occorre avere dei programmi di screening e trattamento nelle prigioni nei serve per i pazienti che fanno uso di droga endovena tra gli homeless per i pazienti senza fissa dimora tra i pazienti tra i migranti nei pazienti con infezioni d'HIV che vanno tutti screenati che hanno un tasso di prevalenza d'HCV decisamente più alto della popolazione e quindi attraverso una serie di azioni concertate e concertate in questi gruppi si può andare avanti verso l'eliminazione globale dell'HCV per dare un esempio questo è qualcosa che è stato fatto nelle carceri della Catalogna vedete che nel 2015 allo screening il 61% dei detenuti era positivo per il test per l'epatite C con un tasso di screening è stato il 61% e vedete che dall'11% dei pazienti positivi la percentuale di positivi si è abbattuta quasi 10 volte attraverso lo screening e il trattamento nel giro di solamente 4 anni occorre quindi andare nella popolazione generale nella quale abbiamo una serie di persone che non sanno di avere l'epatite perché è una malattia del tutto asintomatica che non è stata mai diagnosticata e che dovrebbero essere trattati noi finora stiamo trattando e abbiamo trattato finora tutti i pazienti che avevamo nei nostri ambulatori che seguivamo che sapevamo che avevano l'epatite C o altri pazienti che sono ritornati negli ambulatori ricordando di questa malattia per cui si può pensare a uno screening universale i francesi che sono sempre molto ambiziosi in loro obiettivi sanitari e disposti a delle spese importanti hanno avviato lo screening di tutta la popolazione generale francese con un costo di 31 mila euro per quali per vita salvato in buona qualità e loro pensano di poter ottenere così questo dato come realistico in Spagna si sta analizzando quale sarebbe il costo si sta valutando se lo si può in qualche modo affrontare e sostanzialmente si ipotizza uno screening per fasce d'età e sostanzialmente la stessa cosa anche in Italia se noi andiamo a vedere quanti pazienti abbiamo in Italia si stima che abbiano l'epatite C sono circa 443 mila di questi noi ne abbiamo curato circa 200 mila per cui ne rimangono 240 mila che hanno l'infezione non sanno di averla e che vanno identificati e trattati ovviamente la prevalenza di questa infezione è molto più alta nelle fasce di età superiori più bassa nelle fasce di età inferiore ma nelle fasce di età inferiori noi abbiamo il più alto tasso di trasmissione per questo motivo l'istituto superiori sanità ha fatto un'analisi farmaco-economica e ha confrontato due possibili modelli un modello di screening generale della popolazione universale che avrebbe un costo di 56 mila euro per quali e invece ipotizzare uno screening graduale nel quale si screena prima la popolazione nata tra il 79 e il 2009 e successivamente si screena la popolazione nata tra il 48 e il 77 quindi screenare tutte queste persone per fascia di età come possiamo fare? La procedura classica è il recall cioè chiamare i pazienti con una lettera ebbene è stata fatta questa prova in Spagna e si è visto che sostanzialmente su 11.500 lettere che sono state mandate in realtà sono stati trovati solo 8 pazienti con infezione attiva quindi grande costo di spedizione e scarsa differenza perché vedete che sostanzialmente su 11.500 pazienti sono venuti a screening solamente 5,99% un momento di screening può essere quello della gravidanza e un'analisi farmaconomica statunitense ci fa vedere come in realtà anche con una prevalenza molto bassa dell'infezione in gravidanza noi siamo in grado di avere uno screening che è cost effective e anche per te identificare l'infezione in gravidanza significa anche identificare una possibile trasmissione dalla madre al nascituro che avviene nel 4% dei casi un altro setting in cui si può fare uno screening opportunistico sono i reparti di protocorso e ci sono una serie di esperienze che sono state fatte negli Stati Uniti che sostanzialmente riassume e ci dicono che si può arrivare fino a un 58% dei pazienti che consentono a eseguire il test con un tasso di positività in questo caso anche abbastanza rilevante più alto la popolazione generale intorno al 4,2% però anche qui nel pronto soccorso se avete il paziente e altre cose a cui pensare circa il 42% ha declinato il test al point of care ha declinato il consenso più efficace per esempio lo screening in neurochirurgia non so qui se è stato chiesto il consenso e se è stato fatto su 1.462 pazienti circa il 98.5% è stato screenato quindi nell'ambito di un setting chirurgico sembrerebbe essere più efficace anche rispetto a un setting oncologico o un setting di un trauma in center noi abbiamo per questo motivo fatto un'analisi a Niguarda abbiamo preso due reparti di medicina e tutti i pazienti che venivano in prericovero e durante sei mesi abbiamo effettuato 9.740 test e tutti i pazienti hanno sostanzialmente l'aderenza a questa richiesta è stata intorno all'89% e abbiamo trovato un 3.3% di pazienti positivi abbiamo effettuato una telefonata a questi pazienti e abbiamo visto che in realtà 155 del 295 erano già stati trattati e erano negativi perché non siamo andati più avanti tuttavia negli altri pazienti abbiamo rintracciato e sottoposto il test quantitativo e ricerca ci avevamo 140 pazienti e a oggi questa è una diapositiva vecchia tutti i 140 hanno concluso il trattamento e abbiamo avuto 138 risposte sostenute 138 guarigioni quindi c'è un piano c'è una possibilità ebbene il ministero sospinta delle associazioni dei pazienti e dei clinici ha fatto partire e ha finanziato uno screening per l'epatite C screening che va portato dalle regioni tra la corte di nascita tra il 69 e l'89 con chiamata attiva o con screening opportunistico attraverso il test sierologico e la ricerca dell'HCVRNA e poi tutti suggeriti dall'età carico i SERV e tutta la popolazione detenuta siamo partiti così e siamo arrivati all'inizio del gennaio 2020 che è la data in cui è stato promulgato questo decreto ovviamente quello che è successo lo sapete tutti e l'epidemia da Covid-19 ha avuto un impatto enorme sulla gestione dell'epatite C e ha ritardato quelli che sono i nostri sforzi di eliminazione perché tutte le politiche di contenimento hanno ridotto l'accesso dei pazienti ai servizi per il trattamento dell'epatite C ha ridotto l'accesso dei pazienti ai servizi di gestione della dipendenza da farmaci e la riduzione del danno ha determinato una chiara riduzione della priorità dello screening del trattamento dell'epatite C rispetto alle altre priorità che avevamo e soprattutto ha determinato anche un dirottamento dei reparti degli ambulatori e dello staff in tutte quelle che sono state e sono ancora oggi le attività correlate a questa pandemia e se andiamo a vedere il numero dei trattamenti durante il periodo del lockdown nel 2019 in Italia hanno iniziato il trattamento in 5.323 persone durante lo stesso periodo dell'outbreak di Covid si sono ridotte di 10 volte ma anche nel periodo successivo nel 2019 erano stati trattati 35.000 pazienti nel periodo successivo 2020-21 dopo il lockdown i trattamenti si sono ridotti sostanzialmente di 3 volte e la percentuale di pazienti con cirrosi trattati è stata molto alta quindi sono stati trattati solamente i pazienti più gravi molti pazienti con malattia lieve non sono stati non sono stati avviati al trattamento e cosa comporta questo? Questo comporta che una riduzione del tasso di trattamento un rallentamento un differimento di 6 mesi di trattamento può determinare 500 morti dopo 5 anni questo è un calcolo fatto dall'Istituto Superiore di Sanità inoltre c'è il problema del paziente con epatite se hanno una malattia più grave sicuramente il paziente con epatite senza cirrosi ha un maggiore tasso di ospedalizzazione ma non ha un rischio maggiore di morte o ingresso in terapia intensiva al contrario il paziente con cirrosi e soprattutto cirrosi scompensata ha un rischio di morte che è del 35% che è uno dei più alti sostanzialmente simili a quelli del paziente ematologico e ovviamente si crea un circolo vizioso non si gestiscono i pazienti con cirrosi e cirrosi scompensate che sono allontanati dai servizi quando questi vengono contagiati hanno un decorso più grave occupano maggiormente i reparti e l'occupazione dei reparti riduce la gestione dei pazienti con cirrosi che cosa si può fare provare a identificare in questa situazione addirittura un'opportunità ebbene la regione Lombardia con il gruppo di lavoro al quale ho l'onore e il piacere di appartenere ha cercato di avere un piano di gestione dello screening come spendere questi soldi che ci arrivano dal ministerio primo dare uno screening la possibilità di screening volontario con point of care a tutti quelli che si presentano ai servizi poi uno screening volontario di tutte le persone detenute e poi uno screening opportunistico dopo counseling in tutte le persone nate tra il 69 e l'89 dopo aver richiesto se hanno già avuto le paitecise sono stati guariti offrendo il test al point of care al momento della vaccinazione per SARS-CoV-2 al momento dello screening per il cancro della servizio uterina oppure al momento in cui il paziente va incontro un test in cui viene fatto un prelievo di sangue per esempio nel momento di un pre-ricovero oppure nel ricovero e nell'accesso in pronto soccorso oppure al ricovero in reparto oppure per qualsiasi prelievo esifettito in laboratorio per qualsiasi obiettivo c'è gente che fa prelievi per i moritivi più svariati alcuni per controllare per esempio gli anticorpi al vaccino il test sarà esente ticket e potrà essere eseguito gratuitamente una persona poi dal punto di vista informatico si raccoglieranno tutti i dati dello screening opportunistico e dello screening mirato in questi contesti e si partirà nel 2022 con un recall di tutta la popolazione che è stata testata col classico sistema della richiesta con lettere dell'offerta del test quindi in sintesi la storia dell'HCV è una storia di successo che ci ha messo 40 anni per portarci a un risultato così importante il trattamento così efficace diventa anche una forma di prevenzione e questo ha consentito che la eliminazione dell'HCV possa diventare un obiettivo di salute globale per il 2030 ovviamente perché questo accada c'è bisogno di una coscienza pubblica della malattia c'è bisogno della disease awareness c'è bisogno di attivare dei processi di microeliminazione in contesti molto ben definiti in popolazioni particolari in questo caso l'obiettivo è la viremia di popolazione se io curo un paziente che usa droghe per via endovenosa non solo guarisco lui ma impedisco che contagia gli altri quindi è una risposta virologica che non è del 100 ma il 300 o 400% e poi in Italia il piano nazionale è stato supportato con 71 milioni di euro che mira lo screening nei pazienti che usano droghe per via endovenosa nei carceri e quelli nati tra il 69 ed il 69 il covid-19 può ritardare l'eliminazione di HCV tenendo conto che la malattia epatica cirrotica scompensata determina un aumento della mortalità se noi non curiamo questi pazienti abbiamo anche un feedback un meccanismo di feedback negativo il covid-19 può anche ridurre il tasso di screening di case finding il linkage to care di questi pazienti alla fine come abbiamo visto anche i trattamenti tuttavia questa situazione può offrire anche delle nuove opportunità per lo screening e la gestione dei pazienti così come nel quattordicesimo secolo dopo la crisi della peste ci fu il rinascimento noi speriamo che da questa crisi del covid-19 vengano fuori nuove opportunità per la gestione di tante delle malattie e delle situazioni che noi curiamo e questa in particolare potrebbe essere un aspetto di piccolo rinascimento dopo una crisi così rilevante io ho finito e ringrazio anzitutto questo percorso che io ho fatto ovviamente dei debiti col mio mentor il professor Carosi dell'Università di Brescia i colleghi che hanno lavorato con me in quella meravigliosa esperienza che ho avuto per circa 25 anni in quella città i colleghi con cui abbiamo lavorato sulle partite C i colleghi di biochimica dell'Università di Brescia il professor Alberto Albertini dell'epoca Daniele I Elisabetta Cariani del Combiotech chi lavora con me ha lavorato in questi anni alle malattie infettive di Niguarda il pannello di esperti che abbiamo elaborato le raccomandazioni delle persone dal punto di vista scientifico molto rilevanti le direzioni mediche delle case farmaceutiche che mi hanno affidato come principal investigator diversi di questi tagli ma soprattutto i colleghi con i quali viviamo tutti i giorni una struttura mista in cui lavorano insieme patologi e infettivologi con l'obiettivo di curare e trattare l'epatite una struttura che abbiamo fondato a cui teniamo molto e ringrazio in questo caso la dottoressa Vinci che è andata in pensione la mia collega Chiara Baimera Marco Merlio il direttore delle patologie di Niguarda Luca Belli e più di tutti la nostra infermiera manager Viviana Picciotto che veramente guida tutta questa equipe io vi ringrazio dell'attenzione e ovviamente sono all'esposizione per eventuali domande Allora professore Poti la ringrazio appunto del team seminale di questo interessantissimo seminario che è sempre come una luce di speranza no? che si possa sconfiggere appunto qualcosa che sia così importante Allora prima di dare diciamo il via alle domande dovrei fare un piccolo annuncio riuscite a sentirmi tutti bene? Allora con così e così mi sentite bene adesso? Ok mi chiamo molto avvicinare non so perché allora con il seminario del professor Poti concludiamo il ciclo dei welcome seminar in quanto ci sarà la pausa estiva vorremmo però ricordare una importante iniziativa nata sempre nell'ambito delle attività seminariali che si svolgerà il 21 giugno alle ore 21 organizzata dal professor Ivernizzi e dal dottor Gerossi il tema sarà il tema affrontato sarà la paleogenetica e gli speaker saranno il dottor Mafessoni e la dottoressa Svon quindi raccomando a tutti la partecipazione a questa interessantissima iniziativa un po' diversa dei nostri seminari ma che diciamo gli argomenti trattati sono veramente molto interessanti Allora quindi adesso quindi il tema seminario vi ringrazia per la partecipazione per tutti i seminari vi ringrazia per l'apporto che ci avete dato e per le vostre presenze Allora quindi possiamo cominciare con le domande io avrei due piccole domande se posso fare la prepotente come al solito perché io sono un po' prepotente su queste cose Allora questi farmaci che sono stati usati presentano degli effetti collaterali e poi perché il range di età che viene compreso è tra il 1969 e l'89 questo mi colpisce particolarmente grazie Prego sono domande estremamente appropriate non ho parlato della tollerabilità ovviamente la tollerabilità è francamente ottima ci può essere forse un po' di mal di soprattutto dei nuovi farmaci può essere forse un pochino di mal di testa ma gli effetti collaterali sono veramente minimi e ridotti a zero non superano gli effetti avversi gravi non superano il 2-3% per quanto riguarda la scelta della categoria è stato fatto un calcolo di convenienza sulla base del fatto che i soggetti che hanno maggiore probabilità di trasmissione dell'infezione sono la fascia d'età tra 69 e 89 quindi la riduzione di viremia di popolazione in questa fascia d'età ci consente di ottenere un effetto migliore di avere un trattamento che è anche prevenzione del corso di altre persone mentre invece si è pensato che le persone nate tra il 49 e il 69 o anche prima avessero una minore possibilità di trasmettere l'infezione questo è l'unico del calcolo e i giovani perché potrebbero essere i giovani i giovani i giovani sono identificati come solamente come popolazione mirata la prevalenza tra le persone nate dopo l'89 è intorno allo 0 0 1 per cento è veramente bassa a meno che non appartengono ai gruppi a rischio che sono in qualche modo gestiti ai servizi per la gestione di una tossicodipendenza dalle comunità terapeutiche dalle operatori di strada o dai carceri nella popolazione generale che non appartiene a queste categorie al rischio la prevalenza è estremamente bassa va bene grazie professore per la sua risposta e quindi via alle domande mi aspetto sia un vero se posso sono Pietro Invernizzi buongiorno buongiorno a tutti se posso essere il primo a fare no il primo no ma il secondo a fare domande io prima delle domande vorrei ringraziare Massimo perché veramente è stata una presentazione veramente molto molto interessante che ha dimostrato e che dimostra chiaramente la statura di questo nostro collega è un'acquisizione importante di Bicocca ecco Massimo complimenti l'argomento veramente hai fatto la storia insieme sei stato parte di questa storia sostanzialmente fin dai primi fin dai primi minuti e ancora adesso con un ruolo molto importante io la domanda la domanda è su questo sugli ultimissimi ultimissimi fasi di quello che ci hai detto cioè hai parlato dopo il covid del piano della Lombardia ma ecco non ti ho sentito dire e così mi incuriosisce che cosa e se sta facendo se ci sono delle azioni a livello europeo proprio di queste settimane penso a tutta questa pioggia di soldi che che verrà distribuita dall'Europa anche in Italia se se c'è un programma specifico oppure non ancora ecco questo era mi interessava saperlo e l'altra è a livello invece globale sempre in un in un recente una recente attenzione crescente attenzione della alla salute globale che stiamo sentendo in questi ultimi giorni molto legata al covid ecco se in termini di hcv o prima del covid o durante il covid o adesso se ci sono dei piani così di globali ecco più che regione per regione stato per stato continente direi per continente allora anzitutto ti ringrazio per quello che hai detto anche perché viene da una persona che stimo ed ammiro molto anche se più giovane di me ha fatto anche lui la storia anzi ha fatto molto più di me la storia in alcune malattie e per quanto riguarda il discorso a livello del recovery fund quello che ho potuto leggere dai formazioni stampa ho visto che la maggior parte dei fondi va su attività strutturali cioè cambiamento del sistema sanitario cambiamento del sistema di ricerca e supporto del sistema di ricerca e cambiamento e supporto dell'università su una particolare determinate malattie non ho ancora visto nulla del resto aver ottenuto nel momento del 2020 un fondo di 71 milioni di euro per lo screening per l'epatite C credo che si rappresenti già un successo se riusciamo a spendere questi soldi e attivare lo screening per passare alla fase dei medici di medicina generale dei medicini con ricollo secondo me si ottiene già un ottimo obiettivo in Italia l'organizzazione mondiale sanitaria l'ha indicato come uno degli obiettivi di salute globale per cui gli stati aderenti dovrebbero perseguire questo obiettivo è stata data la strada è stato dato un sistema per gestirlo che comprende lo screening universale lo screening mirato la micro eliminazione in alcune popolazioni e dovrebbero tutti gestirla nel monitoraggio devo dire l'Italia attraverso la gratuità della terapia per l'HCV a tutti indipendentemente dallo stadio di malattia ha fatto un grosso passo avanti questo lo dobbiamo al precedente direttore generale AIFA che è il professor Melazzini che ha concesso sostanzialmente questi farmaci a tutti dopo una lunga e estenuante trattativa con le case farmaceutiche un prezzo sicuramente tra i più bassi in Europa questo è stato il grosso il core adesso il problema è screening e linkage to care abbiamo dei fondi per farlo sta a noi cercare di portarlo avanti e per normale la stessa strada che come avete stanno seguendo tutti i paesi on track ci sono paesi anche importanti che non sono on track per esempio gli Stati Uniti chiaramente sta nell'awareness dell'opinione pubblica nella pressione dell'opinione pubblica spingere verso l'uttenimento di questo obiettivo come tutti gli altri obiettivi di salute globale dati per il 2030 se andiamo a vedere gli obiettivi di 2020 vediamo che non è che portino sempre tanta fortuna a fissare questi obiettivi però sono dei target ambiziosi che possono aiutarci a livello politico dei singoli stati per ottenere dei fondi e delle strutture per fare questo per raggiungere gli obiettivi senti ma posso poi ecco tu che conosci la realtà ecco hai citato gli Stati Uniti ma quelli allora io ti richiederei uno alla volta perché mi interessa particolarmente ma tipo in Cina per fare a parte le indicazioni sono chiari non è anche che la terapia sia gratuita ma poi cosa stanno facendo ci sono delle azioni in Stati importanti penso a parte il Covid in questo momento ma insomma anche in India in Cina in Sud America in questi Stati ci si sta dedicando nella realtà oppure vabbè ecco che lo si faccia più o meno ma che ci siano tutte queste attività bellissimo ma ecco parliamo sempre dei nostri stati e va bene ma in Cina credo che il primo step sarebbe rendere gratuiti i farmaci per tutti il prezzo è molto basso perché le maggiori case farmaceutiche hanno concesso all'India alla Cina al Brasile alle nazioni diciamo con risorse intermedie di produrre per conto loro i farmaci come generici quindi il prezzo è molto basso per noi ma è abbastanza alto per il cittadino medio cinesi o indiani la Cina forse è un po' più avanti l'India molto molto meno su questa strada il problema è che è uno sforzo enorme anche perché la prevalenza in Cina non è sicuramente tra le più basse la prevalenza decisamente almeno due o tre volte superiore a quella italiana c'è va bene nascevo maggiore responsabilità negli stati sensibilizzazione non si può fare niente dovrebbe essere l'organizzazione mondiale della sanità e le organizzazioni dei pazienti a avere questa spinta ovviamente vengono finanziate nell'ambito di accordi bilaterali anche dei progetti nei paesi a risorse limitate una volta che uno stabilisce gli obiettivi di salute globale è chiaro che i finanziamenti dovrebbero andare in maniera preferenziale a questi progetti che raggiungono questi obiettivi l'abbiamo visto sulla tubercolosi sull'HIV sulla malaria quindi esiste ovviamente nel momento in cui fissi un obiettivo questo significa che una serie di progetti vanno su questo obiettivo grazie altre domande? professore è stato così e se mi va ok non richiede altre domande i nostri microbiologi che cosa dicono? i microbiologi ringraziano il professore e si scusano per essere arrivati in un secondo momento per un'altra call precedente con il professor Bonfanti tra l'altro quindi ci scusiamo complimenti perché quello che abbiamo potuto cogliere è un tracking proprio di frontiera mentre il professor Invernizzi proprio elucidava questi futuri scenari era interessante proprio correlare cosa dice Ema come quali sono i consensus in queste comunità così ristrette dove HCV dal vostro punto di vista è fortemente non solo monitorato ma si sta cercando di risolvere le situazioni e allora collegandomi a quello che diceva il professor Invernizzi se questo fosse un consensus che abbatte le frontiere allora sarebbe davvero molto 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 bello perché risolvere a livello locale poi non vuol dire riuscire a tamponare su scala globale quindi complimenti ancora per gli sforzi che si stanno facendo e speriamo che ci sia sincronia a livello europeo perché gli sforzi poi devono essere anche ottimizzati io credo che il contributo ai microbiologi sarà molto importante anche nel sostanzialmente lasciare togliere di quella che è la loro accuratezza la loro precisione per lasciare in qualche modo l'uso che ovviamente dato che il meglio a volte è nemico del bene è il test al point of care il test al point of care non saranno mai come i test di laboratorio però in alcune situazioni ci permettono di avere una facilità di screening una facilità di legame del paziente alla struttura clinica che poi effettuerà i test che si devono effettuare io so che c'è molta diciamo tra virgolette prevenzione nella valutazione di questi test nella diffusione di questi test in un contesto come quello italiano nel quale si aspira a un certo livello di qualità di precisione nella diagnostica però purtroppo credo che siano in alcuni contesti la migliore soluzione che possiamo avere quello che noi cerchiamo di tenere sempre e sono le due anime conosciamo bene i limiti di un sistema ma anche dell'altro risorse economiche piuttosto che risorse umane scale maggiorate scale ridotte perfettamente d'accordo però tenendo per buono quali sono i limiti sia dell'uno che dell'altro caso e allora si riesce secondo me a fare un ottimo lavoro in tutte e due le condizioni e le due condizioni una non esclude l'altra anzi si parla di sinergia quindi corso anche positivamente questo punto di vista io avrei un'altra piccola grazie dottor Musmesh io avrei ancora una piccola curiosità lei aveva detto all'inizio che quando prima le terapie di prima quando si chiedevano si acerano rispese della malattia per questi pazienti che sono sottoposti quindi a queste terapie che prevedono l'utilizzo di più farmaci è stato fatto un po' in un altro successivo per vedere se c'è una ripresa di malattia perché questa è una cosa che mi ha colpito in poco personalmente sempre come poco esperto certo era una cosa che vedevamo con i farmaci che usavano all'inizio il famoso sofosbu che era stato usato in monoterapia e in monoterapia zerava la viremia finché lo si dava e poi tornava la viremia e ritornava su invariabilmente ormai abbiamo follow up dei pazienti di anni i primi traia sono stati fatti nel 2012 2013 e il tasso di recidiva del virus precedente penso che sia inferiore all'1 per 10.000 o 1 per 100.000 c'è qualcuno che parla di infezione occulta da HCV che rimarrebbe nel fegato però ancora non è una dimostrazione assolutamente sostanziosa di queste poche voci diciamo non hanno alle spalle un corpus di dati sufficiente a dar credito a queste ipotesi è una guarigione vera e propria al contrario delle patite B che è come un diamante una volta che te lo danno è per sempre l'HCV è un regalo che per fortuna tende a consumarsi in fretta questa è una grande cosa quindi anche se il paragone tra un diamante e per sempre le patite B mi lascio purtroppo è così va bene allora se non ci sono altre domande io veramente ancora ringrazio il professor Foti perché realmente il suo seminario è stato molto interessante e ci ha dato la possibilità che per me lo hai non addetti ai lavori come me e come altre persone di poter capire come un problema se affrontato in un certo senso si possa risolvere e quello è quello che speriamo per tantissime malattie dove forse sarà più lungo più difficile ma che ci auguriamo allora io e il team seminario vi salutiamo tutti quanti ricordiamo ancora l'evento del professore Indermizi il 21 giugno alle ore 21 poi ci sarà comunicazione tramite appunto sito di dipartimento eccetera e niente vi salutiamo e alla prossima grazie ancora professor Foti grazie a tutti grazie per questa opportunità arrivederci buonasera arrivederci grazie arrivederci grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti